amici di motorbike days ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video siamo da bmd moto e oggi proveremo una figata pazzesca il moto trainer simulator e quindi io veramente propenso alle sportive guiderò in pista una bellissima r1 eccoci qui al simulatore siamo con andrea lombardi e sta settando le ultime cose adesso ci farà un giro dimostrativo ciao ragazzi e benvenuti siamo qui da bmd firenze in questo momento sono in sella una bellissima r1 del negozio e sono qui a presentarvi il nostro nuovo talent moto trainer talent contest in cui praticamente tutti i ragazzi e ragazze tra i 14 e 25 anni avranno l'opportunità di dimostrare il proprio talento in completa sicurezza e il migliore avrà l'opportunità di vincere una gara gratuita da pilota ufficiale quindi tuta casco guanti stivali e un'assistenza veramente veramente eccezionale piloti come massimo roccoli alex de angelis saranno a vostra disposizione per assistervi e darvi una grande esperienza quindi questo momento adesso vi faccio vedere un bel giro ci provo perlomeno il sistema funziona quindi nel cercare di simulare il più fedelmente possibili anche se siamo ovviamente fermi le istituzioni di guida ok andrea adesso ci fai vedere un po allora che pista hai scelto il mugello ragazzi siamo a casa firenze alla pista di casa e quindi via sul un mugello ragazze pronti eh ragazzi è sono arrivato un po lungo ho suonato troppo e mi si è chiuso l'anteriore questa è una caratteristica del simulatore modello 2021 in cui se sbagli cadi, quindi ragazzi qui non ci facciamo male, ricominciamo dai, ragazzi quindi adesso è il vostro momento 14-25 anni in tutta Italia, qui a Firenze a BMD andate sul sito mototrainer.it e iscrivetevi subito gas farò un test anch'io per vedere un po' come me la cavo, quanto faccio cagare in pista e adesso vi faccio vedere un po' come funziona se hai tutto nel centro non andare col ginocchio in avanti ma forza sul stato laterale ok qui il ginocchio apido la spalla porto laggiù dai gas e torna su tutto ok quando fai questa operazione devi premere il tuo peso sulla pedana vai ok gas giù in grattilina poi stacchi sulla frenata bene tieni il frenato ok poi sposti il sedere apri il ginocchio con la spalla qua vai qua 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 lascia il freno bravo e gas e gas bene ti devi tenere il tuo peso devi tenerti con la gamba esterna ok gas vai vai gas 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 Ok, bene, vai dentro, senza gas, 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 bene, senza gas, gas, bene, senza gas, dentro, senza gas, gas, bene, senza gas, 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 bene, senza gas, guto, un pochino, poco, gas pieno pesca 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 ragazzi una figata pazzesca è da provare assolutamente da provare faticoso ho fatto cagare ovviamente essendo la mia prima volta su una sportiva in pista è molto molto realistico adesso lo proverà anche simo e ci dirà effettivamente quanto cambia e ragazzi una bomba eccolo l'arrivai pistagno di morte vediamo vediamo che fa sprova come lei rispetto ai velo è un po strano perché c'è il manubrio fermo però bello bello al momento tu sei entrare ancora nel meccanismo e sai che il livello il gas non va aperto ma il suo ultimo video è quello che ti entri nel meccanismo giusto è su tutti i gas è molto simile all'elementare nel senso della moto che ti si rialza il moto trainer davvero una figata davvero ganso perché a parte il movimento e tutto poi un giro già mal di gambe quindi allenamento fisico prima di tutto e poi traiettorie uso del gas uso del freno soprattutto anche in circuiti che non conosci per esempio misano mugello davvero una figata pazzesca ragazzi che figata avete messo in negozio siamo con lorenzo ciao a tutti ragazzi vi ricordo che abbiamo vinto a noi il nostro trainer fino al 13 di marzo che sarà a disposizione di chiunque voglia trovare un'esperienza virtuale della pista senza ovviamente rischiare niente è disponibile oltretutto per chiunque voglia fare un corso di miglioramento o comunque voglia intraprendere un approccio con la pista venite qui da noi via l'occhio 84 a 234 sesto fiorentino osman loro ciao a tutti allora ragazzi se volete anche voi fare una prova venite da bmd questo video lo vediamo qui mettete like iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima